Due seminari e do qualche informazione tecnica. Si comincia la prossima settimana, dicevamo giovedì 29 ottobre, il primo in modalità webinar, quindi diciamo non a contatto a distanza, mentre il secondo martedì 3 novembre in presenza. Il tema l'abbiamo così definito in modo molto molto ampio, però ti chiederei insomma di entrare un pochino più nel dettaglio. Cosa si propongono questi? Grazie, guarda scusa, intanto faccio subito una precisazione nel senso che credo quasi sicuramente anche il secondo si svolgerà a questo punto in modalità web, perché ovviamente dobbiamo recepire questo retrogramma fino a domenica sera e poi ovviamente recepiremo quelle che sono le direttive del nuovo provvedimento e quindi saranno entrambi in modalità web. Come hai detto tu si tratta di una formazione che abbiamo proposto a Volontarimini e a Lassiprov di Forlie Cesena nell'ambito di un progetto regionale finanziato appunto dalla regione Emilia Romagna che si intitola Shaping Fair City e che mira proprio a sensibilizzare l'opinione pubblica ma anche tutti gli attori sulla necessità di lavorare insieme ed implementare ciascuno rispetto al proprio ovviamente campo d'azione attività che portino appunto a raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Diciamo che ovviamente tra l'altro in questo momento probabilmente il tema è ancora più di attualità perché se è vero che mancano solamente 10 anni a quello che dovrebbe essere il traguardo che l'agenda ha indicato quindi appunto il 2030 per raggiungere questi obiettivi la pandemia ha un po' da un certo punto di vista scombinato il già difficile percorso di questo piano d'azione come molto correttamente l'hai definito tu. Questo perché? Perché già rispetto appunto ad alcuni indicatori anche l'Italia era piuttosto indietro e poi anche perché ovviamente la pandemia con tutte le conseguenze di impatto sia economico ma anche di tipo appunto sanitario eccetera eccetera se vogliamo ha ancora di più acuito determinate disuguaglianze e in alcuni settori specifici addirittura c'è stato un passo indietro rispetto a un cammino che si era comunque così intrapreso. Diciamo che in ogni caso queste attività di sensibilizzazione e di formazione sono molto importanti rispetto per esempio appunto il mondo dell'associazionismo anche perché in realtà anche se non lo sappiamo molti di noi già in realtà nel lavoro quotidiano soprattutto nel mondo appunto del terzo settore si opera in questa direzione però è importante capire quali sono proprio i traguardi che l'agenda indica anche per per esempio facilitare l'accesso a dei finanziamenti e dei progetti di tipo europeo cioè per riuscire appunto a lavorare in maniera come dire coerente e coordinata. Direi che mi viene un po' così da dire che se questa pandemia in un certo modo ha influito negativamente pesantemente su quello che è il cammino verso il raggiungimento di questi obiettivi, d'altro canto però ci ha indicato anche molto chiaramente quanto siamo, quanto il mondo effettivamente al di là della parola globalizzazione che quasi sempre affrontiamo solo da un punto di vista così economico invece quanto sia interconnessa e quanto sia importante per esempio garantire a tutte le fasce della popolazione l'accesso ad un'istruzione di qualità, a delle come dire città che abbiano delle infrastrutture pensiamo al web, a quello che è accaduto con la didattica a distanza che non crei disuguaglianze anche dal punto di vista così proprio dell'accesso ai servizi per cui così riteniamo che questa possa essere una formazione molto interessante tra l'altro il progetto è un progetto che vede capofila la regione Emilia Romagna ma che è stato proprio finanziato dall'Unione Europea e che coinvolge ben 17 paesi quindi proprio per appunto dare il senso di quanto sia importante poi questa sensibilizzazione sensibilizzazione che tra l'altro non è rivolta solamente a determinate categorie come posso dire sociali o economiche ma richiede proprio anche una mobilitazione nostra di noi cittadini cioè nel senso che noi siamo anche chiamati a far sì che i nostri governi recepiscano quelle che sono appunto le direttive quindi da questo punto di vista oltre che per il nostro comportamento diciamo con un senso civico eccetera siamo anche chiamati a richiedere che i nostri governi si comportino attraverso ovviamente quelli che sono gli strumenti di legislativi e politici affinché poi questo cammino insomma possa essere garantito. Ecco alcune volte questi diciamo questi progetti queste azioni hanno forse il difetto di essere percepiti un po' lontani dalla realtà di tutti i giorni invece ecco anche un corso di questo di questo genere anche quello che dicevi tu cioè cercare di portare all'attenzione delle associazioni che magari già operano in questa direzione e non ne sono consapevoli anche un modo per entrare un po' nei meccanismi diciamo così del futuro no con questa parola forse un po' esagerata però davvero di intervenire... No ma lo è Stefano anche perché in realtà le misure che appunto per esempio l'Unione Europea si è data per non solo favorire ma proprio incrementare questo tipo di percorso ovviamente hanno anche degli risvolti economici per cui se i paesi non si dimostrano virtuosi da questo punto di vista rispetto a quelli che sono che è il recepimento ma anche proprio l'applicazione quindi i risultati sul campo poi ovviamente hanno tutta una serie di come dire hanno meno convenienza in termini di erogazione di servizi ma anche di finanziamenti eccetera cioè già oggi in Italia sono tanti gli enti che comunque prevedono il riuscire a raggiungere ed essere coerenti attraverso le proprie attività all'agenda 2030 come uno dei fattori di qualificazione per esempio non so nel mondo universitario quando i docenti devono presentare progetti anche di ricerca di finanziamenti eccetera questo è un aspetto che va tenuto in considerazione la stessa cosa è per appunto le associazioni di volontariato qualora mirino a presentare dei progetti ciascuno poi per il proprio ambito perché ovviamente teniamo conto che se vogliamo la grande novità dal punto di vista così proprio di approccio dell'agenda 2030 è quello che vede e affronta lo sviluppo sostenibile non solamente dal punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista proprio sociale quindi voglio dire sono tutti gli aspetti che devono poi progredire evolversi dal punto di vista sostenibile e quindi voglio dire questo è molto importante da tenere conto e da sapere la cosa devo dire che secondo me è così un po' preoccupante è che in realtà sia veramente ancora un argomento misconosciuto nel senso che noi che abbiamo lavorato io sono trainer appunto perché ho partecipato a tutte queste formazioni internazionali che sono state fatte nell'ambito di questo progetto è stata proprio commissionata all'università di Bologna una indagine internazionale attraverso i paesi aderenti al progetto e la percezione, la conoscenza che i cittadini ma non solo il semplice cittadino cioè proprio anche un cluster che dovrebbe magari per attività professionale eccetera approcciare già aver approcciato questo tipo di tematiche invece vediamo che la conoscenza è pressoché insomma è ancora molto molto bassa e quando invece si parla tantissimo di climate change eccetera eccetera però probabilmente appunto è sia responsabilità dei nostri governi parlo in senso lato non solo dell'Italia ma proprio a livello internazionale ma anche probabilmente di una scarsa attenzione per esempio dei media perché quando si parla di sviluppo sostenibile difficilmente si entra anche a parlare appunto di agenda 2030 e poi insomma degli aspetti che sono effettivamente più interessanti e tra l'altro scusa vorrei ricordare che la formazione nasce ovviamente visto che tra l'altro è stata organizzata da volontarimini verso il mondo dell'associazionismo però comunque aperta per esempio anche agli insegnanti quindi qualora ci fossero dei docenti interessanti ad approfondire queste tematiche perché ovviamente la fascia giovanile è una di quelle più come dire che dovrebbe essere colpita più direttamente esatto è una proprio di quelle diciamo delle fasce di popolazione principale su cui tutta una serie poi di azioni verranno rivolte ovviamente insomma l'invito è assolutamente aperto ricordo che tra l'altro il seminario è gratuito quindi insomma tra l'altro hai anticipato un po' una domanda che stavo per farti ovvero tecnicamente a chi è rivolto cioè secondo te chi può essere oltre a chi è rivolto chi può avere un interesse a partecipare e anche tecnicamente come ci si scrive e se magari qualche indicazione di come saranno articolate queste due giornate certo allora intanto si tratta proprio di una presentazione generale per cui parleremo di che cos'è l'agenda 2030 quali sono i 17 obiettivi cioè li andremo proprio a vedere uno per uno perché appunto come dicevi tu sono 17 obiettivi però in realtà ciascuno poi comprende tutto un numero molto anche specifico di traguardi che sono praticamente i parametri di misurazione dell'evoluzione del raggiungimento di quell'obiettivo specifico e quindi appunto andremo proprio così a conoscerla nello specifico e a capire come questa possa essere implementata nei vari progetti e implementata proprio anche nella attività quotidiana di ciascuno di noi a secondo del suo ruolo e quelli come dicevo prima invece che sono come dire che è il tipo di comportamento e di atteggiamento che l'agenda viene invece a chiederci ci richiama in quanto semplici cittadini per quello che riguarda l'iscrizione questa avviene attraverso volontarimini c'è un modulo da compilare online quindi andando direttamente sul sito si trovano tutte le informazioni abbiamo anche un evento facebook sulle nostre pagine profilo per cui direi che è veramente molto semplice e ci si può iscrivere visto che tra l'altro appunto sono due sessioni insomma cercheremo ovviamente di accogliere tutte le iscrizioni